Ciao, sono Filippo, sono un chitarrista e un cantautore belunese. Nella didattica imposto il lavoro attraverso l'analisi e lo studio delle canzoni, senza discriminazione per epoca o stile musicale. In questo modo il lavoro è più facilmente personalizzabile, in base alle attitudini ma anche ai gusti musicali. Sono convinto che in una canzone ci siano già molti elementi sui quali lavorare, sia sullo aspetto tecnico, quindi sullo strumento, che teorico, quindi affrontando discorsi come lo studio dell'armonia, delle scale, eccetera, trovando il giusto equilibrio tra teoria musicale e il piacere di suonare tra lo strumento. Ovviamente è graduale, si può partire da zero fino ad arrivare ad affrontare tematiche complesse o al perfezionamento tecnico o di conoscenza dello strumento. Per poi magari spostarsi al lato compositivo, scrivendo le prime melodie, i primi riff e gli assoli. Oppure analizzare e suonare la musica dei nostri idoli. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!